Siamo in compagnia di Vincenzino Cordoni che è un imprenditore che lavora nel mondo del vino. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi chiamato. E il mondo del vino, poi avremo modo anche con la nostra chef Ilaria di andare a confrontare poi nella ricetta il vino da proporre con Ilaria Cappellacci. E che mondo sta vivendo, che momento sta vivendo in questa fase il mondo del vino? Che fase è? Anche per il mondo del vino è stato un anno non piacevole perché il vino poi spesso è sinonimo di festa, è sinonimo di allegria, è sinonimo di stare insieme, quindi un anno di chiusure, un anno di stare chiusi in casa sicuramente ha portato a meno allegria e anche a un minor consumo del vino stesso. Però anche noi siamo pronti per ripartire dopo le dichiarazioni ieri sera del Premier Draghi per tornare a stare insieme e per tornare a fare festa, sicuramente con ottimi gallici di vino. Il vino abbiamo visto anche come numeri, soprattutto il mondo dell'export, quello che in parte ha dovuto fare i conti con la pandemia e con la crisi. Le realtà abruzzesi e marchigiane con la loro forza però sono riuscite in ogni caso anche a difendersi. Sì, è vero, tra mille difficoltà siamo riusciti ad andare avanti, vediamo adesso questo barlume di speranza, questa luce in fondo al tunnel sicuramente ci darà grossa energia per ripartire una grossa spinta. Abbiamo proprio voglia di ripartire, abbiamo proprio voglia di energia di tornare veramente a proporci con delle belle novità. Abbiamo visto anche quello del turismo esperienziale, la possibilità di confrontarsi nelle singole cantine, di portare anche gente a vedere quello che è il mondo del vino, non soltanto da un punto di vista commerciale ma anche emozionale. Perché questa frontiera può rappresentare anche un motivo di rinascita perché una bottiglia di vino non è soltanto un modo di consumare alcol, anzi è molto di più. Può essere questo un modo e voi imprenditori che tipo di apertura state dando a questo? Guarda, sicuramente il vino è emozione, il vino deve generare emozione perché altrimenti non si consuma, deve dare emozione la bottiglia, deve dare emozione il prodotto, deve dare emozione l'etichetta, deve dare tutto l'insieme che dà emozione. Sicuramente c'è ancora tanto da fare nel nostro territorio, abbiamo veramente delle grandissime potenzialità inespresse. Secondo me la strada da percorrere è quella di portare gente ad avvicinarla al mondo del vino, a far conoscere questo settore veramente fantastico, questo settore dinamico in continua evoluzione, e seguire un pochettino anche quelli che sono i gusti e le tendenze dei giovani perché poi non dimentichiamoci che sono loro che spesso danno un input e un impulso al consumo del vino nei locali, nel canale Orega. Quindi sicuramente il nostro territorio, parliamo della vallata qui tra Abruzzo e Marche, ha delle grandissime potenzialità, però sicuramente dobbiamo ancora fare tanto. Tanto è stato fatto, va riconosciuto che veramente tanto è stato fatto, però secondo me ancora tanto bisogna fare. Poi più tardi con Ilaria Cappellacci che ci presenterà, gli gnocchetti di semola se non ricordo male con asparagi, magari avremmo modo anche di consigliargli una tipologia di vino, che tipo di vino? Assolutamente sì, io parlavo con Ilaria che ci conosciamo da tanti anni, siamo cresciuti quasi insieme e con onestà avevo qualche dubbio su quale tipo di vino poter abbinare perché più di uno si presentava bene nell'occasione. Però alla fine ho deciso per un bel cerasuolo, per diversi motivi. Innanzitutto perché era quello che più si adattava al piatto che Ilaria sta preparando, in secondo perché il colore rosso ciliegia che poi da cui deriva il nome cerasuolo, da cerasa, è sicuramente un sinonimo di allegria, di una primavera colorata, di rosso e quindi c'è voglia anche qui di tornare a fare qualcosa di bello. E in terzo luogo perché il cerasuolo d'Abruzzo sicuramente ci identifica come territorio un po' a livello nazionale, ma non solo, anche a livello diciamo europeo e anche all'estero. Tanti premi anche proprio per il cerasuolo con percentuali anche alte nel centro Italia. Le marche poi si caratterizzano anche però per dei bianchi eccellenti. Assolutamente sì. Mischiare il bianco, cioè andare con ricette che normalmente poi presentano il cerasuolo o il rosso come partner ideale, passare al bianco e avventurarsi è un'eresia nel mondo del vino in questo momento? Oppure adesso c'è licenza anche un po' di mischiare un po' le carte? Ma sì dai, un pochettino possiamo lasciare un po' di libertà. Si può trasgredire oppure quando ci sono i colori è un po' come le tessure? No, 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 un po' di fantasia sta bene anche qui, un pochettino di trasgressione tra virgolette sta bene anche in questo campo qua. Così come una rivisitazione, così come ha fatto il nostro bartender con il room, con la sua ricetta. Nel frattempo abbiamo la possibilità di salutare anche dalla cucina, visto che l'abbiamo citata, Ilaria Cappellacci. Ilaria, buongiorno innanzitutto. Ciao, buongiorno. È già sul posto di combattimento? Sì, già tutto pronto. È già tutto pronto? Beh a questo punto anticipiamo un po' quello che stai preparando, l'acqua che già bolle mi sembra di traviso. Sì, l'acqua è già in ebollizione. Allora prepareremo degli gnocchetti di semola bicolore, quindi una parte semola bianca e una parte la andremo ad impreziosire con dello zafferano. Poi con una crema di asparagi, specche e una nota croccante data dalle scaglie di mandorle. Benissimo, siamo già curiosi, abbiamo già sentito che il vino indicato dal nostro esperto e imprenditore sarà un cerasuolo, però ci ha dato anche facoltà di trasgredire. Intanto fra pochissimo poi torneremo da te. Intanto noi ringraziamo in ogni caso il nostro bartender che ci ha presentato questa bellissima ricetta, Daniele Giannascoli, questa ricetta semplice, molto semplice tra altre cose, ma non per questo non intrigante. Se vuoi rapidamente proprio rivisitarlo e richiamarlo ai nostri telespettatori. Vabbè, semplice, tea punch, rum, la ricetta originale rum, zucchero e un po' di lime, facile facile, beverina per combattere il caldo estivo e per aglietare le nostre vacanze. Benissimo, noi lo ringraziamo, grazie a Daniele Giannascoli per essere stato con noi e grazie a Vincenzino Cordoni che ci ha detto tutto sugli abbinamenti dei vini, ci ha anche permesso di trasgredire con i colori che, insomma, di questi tempi è una licenza che è inconsueta e che noi in ogni caso per questo lo ringraziamo. Grazie per essere stato con noi, poi avremo modo magari di risentirci. Grazie di nuovo, andiamo in pubblicità, poi ci spostiamo dal reparto cucina per la nostra ricetta con la parte finale della nostra vera mattina. Tra poco. Ci siamo, abbiamo promesso un seguito in cucina, lo facciamo puntualmente con la chef Ilaria Cappellacci. Buongiorno, grazie per essere tornata qui con noi. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. È stata circondata da questa ricetta molto interessante che abbiamo in parte già anticipato nel precedente collegamento, abbiamo promesso uno spazio di libertà, uno spazio verde e un semaforo verde in questo caso, promessa mantenuta perché più verde di così nella ricetta non si può. Lo possiamo dire? Sì, una ricetta molto colorata appunto per accogliere la primavera, quindi con gli asparagi che sono un ortaggio in piena stagione ora e poi useremo lo zafferano per dare un colore giallo, quindi allegria, un bel piatto colorato e una nota croccante con le mandorle e la sapidità con lo speck. Quindi possiamo iniziare già con un gnocchetto di semola, quindi niente patate, niente uova, ma due semplici ingredienti, semola rimacinata di grano duro, acqua e un pizzico di sale. Quindi molto semplici, facili e veloci da preparare. Scetta facile così come le ricette svelate nel tuo blog, molto seguito, che appunto punta su queste ricette che sono anche molto semplici, per voi sono semplici. No, no, sono semplici per tutti, però con quel tocco in più che ci fa portare a tavola non il solito piatto, ma qualcosa di colorato, di diverso, anche con un'aggiunta di piccoli e semplici ingredienti, quindi nulla di complicato, di sconosciuto. Sono semplici anche gli abbinamenti, abbiamo sentito prima con l'imprenditore Vincenzino Cordoni, che ci ha autorizzato, ci ha detto innanzitutto che l'abbineremo con un cerasuolo in ogni caso, no? Sì, un cerasuolo, quindi un vino fresco, un vino giovane anche, che ha un bellissimo colore, un color ciliegia appunto, dal nome stesso, e ha dei profumi molto freschi, anche fruttati, e di marasca, quindi frutta rossa, e si presta molto fresco in bocca, quindi anche è l'ideale da abbinare a questo piatto, che è sì fresco, però ha anche dei sapori molto intensi, come può essere l'asparago, lo speck, quindi con questo vino riusciamo a pulire benissimo il palato. Un cerasuolo che va molto... Sì, un cerasuolo, a cui io sono molto affezionata, perché è un vino abruzzese, io sono abruzzese, quindi... Abruzzese di Ancarano, sì, vivo a Carassai, bellissima curiosità martigiana. Sì, zona, sono lungo la Valdaso, quindi il giardino delle Marche, appunto per la varietà di frutta, coltivazioni di frutteti appunto. Quindi interpreta perfettamente la capacità di interagire tra le due regioni, così come seguiamo e vediamo l'acqua bollire... Sì, bollire, allora facciamo questi gnocchi che sono bicolore, quindi una parte li faremo con lo zafferano e una parte li faremo... Sposto questo in modo che mi potete... Poi lo assaggerò, eh? Prima meglio di no. Ah beh, possiamo... Allora, quindi facciamo una parte bianca, quindi solo semola, e una parte con lo zafferano. Iniziamo con lo zafferano, quindi mettiamo la semola. Bene. Ok. Che è anche un po' più leggera, dicevamo prima. Sì, è un grano duro, un semolato, rimacinato. E poi andremo ad aggiungere dell'acqua calda, qui ho messo in infusione dei pistilli di zafferano, ma se volete anche lo zafferano in polvere, purché sia di qualità e quindi non con l'aggiunta di curcuma e quindi zafferano puro. Quindi andiamo a miscelare i due ingredienti, quindi acqua e semola. Quindi il colore che vediamo, questo arancione, questo arancio è dato proprio dalla... Sì, dallo zafferano, questa spezia costosissima che viene paragonata all'oro non solo per il colore ma anche per il prezzo. Il prezzo è dovuto, aggiungo un pizzico di sale. Poi caratterizza anche le zone, anche in questo caso abruzzesi dell'Aquilano. Quello che uso è uno zafferano abruzzesi della zona di Navelli, in provincia dell'Aquilano, appunto che è dedita alla coltivazione dello zafferano. Il prezzo è alto perché pensate che per... Tanto stiamo vedendo gli ingredienti di questi gnocchetti di semola. Ok, li leggo io Sergio, vai tu. Sì, adesso se la regia ce la rifornisce, eccola qui, con 400 g di semola rimacinata, poi acqua molto calda, abbiamo visto, abbiamo seguito con la presenza di zafferano in pistilli. Poi ancora i 400 g di asparagi, i 200 di speck a dadini, 40 g di cipolla, poi uno spicchio d'aglio, poi 4 chiai di olio extravergine di oliva, pepe misto, macinato, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, 40 g di mandorle a scaglie. Questi sono gli ingredienti, poi però ci vuole, come si dice, la mano del maestro, della maestra in questo caso. Quindi quando si raggiunge una consistenza che non si attacca alle mani e si lavora bene, questo è il nostro impasto degli gnocchi di semola allo zafferano. Ecco qua, quanto deve durare questo impasto, abbiamo visto il tempo televisivo, coincide con i tempi reali. Sì, perfettamente, come dicevamo, il prezzo dello zafferano è così alto appunto perché pensate che per un chilo di zafferano occorrono 150 mila fiori. E questo lo facciamo riposare, prepariamo al volo gli gnocchetti bianchi appunto, quindi senza zafferano, quindi sempre semola. Come abbiamo fatto lo stesso procedimento, solo senza zafferano, in modo che il piatto non è solo giallo o solo bianco, ma sarà bicolore. Eccolo, l'effetto è assicurato con un giallo e poi avremo anche il rosato del vino. Sì, il verde degli asparagi. Il verde degli asparagi e avremo il giallo perché poi in sostanza l'effetto è di questo giallo, anche se eravamo partiti da questa base orange. Sì, dopo è ovvio che con la farina il colore diventa quello che vedevi per l'intervizio. Sì, pensa Reggio che i monaci buddisti usavano lo zafferano per tingere le proprie vesti, poi però l'hanno sostituito diciamo con la curcuma che ha un prezzo meno... Costava molto meno. Sì, molto meno, sì. Una logica anche di risparmio e di evitare gli sprechi, sicuramente questo invece non è uno spreco perché viene poi ottimizzato questo gnocchetto grazie allo zafferano che abbiamo citato della Piana di Navelli. Sì, che è uno dei centri, una delle zone di maggior produzione dello zafferano, sia come quantità ma anche come qualità. Sì, poi il prezzo dipende anche dal fatto che coltivarlo non è poi così semplice, nel senso che i fiori vanno raccolti solo a mano, all'alba, poi vanno staccati delicatamente tre pistilli stigmi centrali, che ne sono tre, essiccati, quindi insomma... E dove si trova dopo? In commercio? In commercio? Sì, sì, supermercati, negozi di alimentari, le stesse aziende se hanno un punto vendita. Ok, quindi questi due impassi sono pronti e ci possiamo divertire adesso a realizzare... Prendo un coltello... Come tradizione comanda, tutto a mano. Sì. Molto bene. Quindi effettuiamo dei cordoncini, come si fa con gli gnocchi di patate. Quindi la stessa grandezza dello gnocco tradizionale, non cambia niente, leggermente più piccolo. Sì, più piccolino. Poi andiamo a tagliare dei pezzettini. Poi a casa, se uno ha un po' più di tempo, fa riposare qualche istante in più l'impasto. Meno stressato. Poi con un rigagnocchi andiamo a passare lo gnocchetto con un movimento del pollice molto semplice e lo facciamo scivolare giù. Quindi si passa, si preme leggermente, una leggera pressione. Per chi non lo sapesse, per chi non lo sapesse... È un rigagnocchi. Ma sono buoni anche lasciarli piccolini. Da Carassai o da Ancarano? Questo arriva da Ancarano, perché... cioè da Carassai, scusami, perché vivo a Carassai. Quindi il mio quartier generale è Carassai. È marchigiano. È marchigiano. Carassai o da Ancarano, è invece abruzzese. È abruzzese. Vabbè, siamo lì, dai. Quindi gli gnocchi, dopo la ricetta, come la battezziamo fra le due regioni? La chiamiamo una ricetta di confine, di unione... Di frontiera. Di frontiera, però non è frontiera, perché mai come in questo momento, probabilmente, speriamo almeno, aggiudicare anche dal numero di contagi che hanno sicuramente in Abruzzo, ma speriamo presto anche nelle Marche, permetteranno il passaggio. Il passaggio, sì. Una zona gialla. E poi, e quindi automaticamente, anche la possibilità di interagire. Sì. Poi, sai, io sono di Ancarano, quindi sta molto sul confine, anche come diocesi e Ascoli, quindi ho vissuto molto questa terra un po' di frontiera. Dovessimo indicare una caratteristica della cucina abruzzese e marchigiana, una differenza in qualcosa? Cosa ci vogliamo avventurare, ovviamente, in una delle differenze che ci sono, magari più leggera. Allora, quello che ho notato è che una donna abruzzese, la prima cosa che dice appena si sveglia è che si mangia oggi. Cosa che la donna marchigiana meno. Un po' meno. Un po' meno, sì. L'Abruzzo tiene proprio... Da questo punto di vista c'è più attenzione. Attenzione, no, attenzione, ma... Anche... Proprio un pensiero fisso. Un pensiero fisso. Va bene. Però no, sono tante le cose che uniscono queste due regioni, sia come prodotti tipici, perché comunque come territorio sono simili, colline, valli, montagne, il mare, quindi hanno dei prodotti, ecco, simili. Se le accomunano. Sì, molto, molto. Ok. Invece per questi, mentre abbiamo seguito con attenzione, tutta, proprio come tempi televisivi che coincidono... Sì. ...con quelli di preparazione... Poi basta prenderci la mano, mi dispiace che non ti puoi avvicinare perché altrimenti un paio te li avrei fatti fare, Sergio, di gnocchetti. È andata bene così da questo punto di vista, mentre per gli asparagi, questi sono asparagi un po' anche più grandi di quelli, diciamo, che si vedono nei campi, che sono gli asparagi selvatici. Sì, quelli, la cosiddetta asparagina, che sono un po' più sottili, non sono tutti uguali come dimensioni e si trovano appunto in campagna in questo periodo. Anche come sapore sono leggermente con un retrogusto un po' più amarognolo rispetto a questi coltivati, ecco. Benissimo. Non pensare che è facile fare, parlare, pensare, non emozionarsi. No, ma l'emozione funziona sempre in televisione, almeno a giudicare anche dal risultato degli gnocchi, che insomma erano più piccoli già nell'idea e quindi rispetto a quelli tradizionali. Quindi sono venuti così come li avevamo annunciati. Sì, che poi io sono che per le cose fatte in casa non devono essere perfette, cioè le cose fatte in casa e fatte a mano sono belle nella loro imperfezione. Piccole opere d'arte. Mi spiace quasi poi consumarli, no? Perché sono talmente, diciamo, particolari. Eccoli. Eccoli, quindi è lo stesso precedimento. Come tempi di cottura, poi invece con l'acqua che nel frattempo sta arrivando. Sì, adesso alziamo un po'. Alziamo un po'. Il sughetto è quasi pronto. Ora ve ne parlo. I tempi di cottura sono brevissimi quelli di... Allora, appena tornano a galla un paio di minuti, a seconda anche della grandezza in cui abbiamo scelto di farli, ecco. Eh, che diventa poi fondamentale. Sì, e anche un po' a gusto. Ci sta chi magari ama lo gnocco più morbido, più è chi invece piace che mantiene quella consistenza un po' più sostenuta. Anche se poi, dopo il terrore di tutti gli chef, è lo gnocco che poi magari diventa eccessivamente morbido, ma in quel caso dipende anche dal... Probabilmente dalle patate, non... Sì, no, vabbè, in questo caso no, quello delle... cioè gli gnocchi di patate si danno più pensiero. Se le patate sono nuove, cioè nonna diceva che non era il massimo, cioè chi consiglia solo quelle rosse. Sì, invece con lo zafferano stiamo sicuri... Sì, con la semola e l'acqua stiamo sicuri che non incorriamo... Ne faccio altri due e poi parliamo del sughetto che è quasi pronto e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Ok. Un rigagnocchi abruzzese, bellissimo. Marchigiano il rigagnocchi. Marchigiano, però in realtà arriva la Carassai. Però, diciamo, è stato anche... Che è anche bello. Carassai è un paesino molto bello, ha un centro storico come tutti i paesi marchigiani, quindi... Ha questi centri storici molto curati, bello. Ecco, questi sono appena un po' più gialli. Sì. Ma per... Così facciamo anche un piccolo... Faccio altri due. Un po' di colori, siamo quasi pronti con anche poi abbiamo visto, tra gli ingredienti, abbiamo visto prima campeggiare ovviamente oltre agli asparagi, oltre alla cipolla, anche tanto come i gnocchi penso che possano bastare come mio riferimento. Sì, sì, possano bastare. Sposto un attimo la pentola. Sì, spostiamo la pentola. La posso appoggiare di qui. Eccola qui, senza poi... Eccola qua. Ecco. Con appoggia a pentola. Allora, qui ho fatto un leggero soffritto con dell'olio extravergine d'oliva, un po' di cipolla, uno spicchio d'aglio e gli asparagi io li ho lessati. Ecco, se può alzare la fiamma, intanto così. Ok. Li ho lessati in acqua, poi appena scolati li ho immersi in una bacinella con del ghiaccio in modo che lo shock termico dell'asparago molto caldo, appunto bollente, con l'acqua fredda, serve a fissare il colore verde. Poi una parte l'ho fatta a pezzettini, come potete vedere qui, e una parte l'ho frullata per creare una crema, che prenderò subito, che ho semplicemente frullato con un cucchiaio d'olio e del formaggio grattugiato. Ma ho conservato anche delle punte che ci servirà poi per guarnire il nostro piatto. Quindi appena, siccome gli asparagi sono già cotti, lessi, quindi giusto per farli insaporire un po' con lo speck a dadini, che ne aggiungo un altro po' che... Eccolo qua. Intanto sostituiamo le pentole, tanto gli asparagi sono pronti, così l'acqua arriva... Eccola qui, ecco qui con l'effetto bollitura, che intanto gli asparagi sono a posto... Gli asparagi sono a posto... Ovviamente sale e pepe misto macinato al momento, io... Li vediamo ancora, è questo, ecco qua, tanto do una mano anch'io, mantenendo la distanza, così aiuto a mantenere la distanza, alzando sempre il fuoco, tra poco ci saremo, così avremo modo anche di vedere l'acqua che bolle. Stavamo dicendo... Ecco, sì. Quindi questa è una ricetta, abbiamo detto una ricetta di frontiera. Sì. Però è una ricetta in ogni caso imparata anche ad Ancarano probabilmente. Sì, sì, sicuramente, sì. Dalle donne abruzzesi. Dalle donne abruzzesi, in particolare da mia nonna. Quelle che si svegliano, come ha detto prima. Sì, prima mattina e dicono che cosa si mangia. Sì, mia nonna materna, nonna Ginetta, era cuoca. Quelle cuoche un po' di un tempo che andavano di casa in casa per le grandi occasioni che potevano essere comunioni, matrimoni, cresime, quindi una cuoca, come possiamo definirla, a domicilio, ecco, come... Lo diceva, ma lo diceva con preoccupazione cosa si mangia o lo diceva con entusiasmo? No, 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 no. La donna abruzzese ha sempre entusiasmo per cucinare. Ah, quindi c'è... È una propria missione di vita. Ah, bellissimo. C'è voglia... C'è voglia di... Io nel frattempo, ecco, vediamo che l'acqua inizia, sì, aggiungiamo un pizzico di sale. Mettiamo intanto il sale, poi i gnocchi, così siamo curiosi anche di capire quanto poi tempo ci vuole, ma... Sì, ma appena tornano a galla, sì, sì. Tornano subito a galla, in sostanza. Sì, sì, subito. Ok. Molto bene. Poi questi non si attaccano più, non succede niente, sono come lì... Inattaccabili. Inattaccabili, come li abbiamo fatti, ecco che rimangono. Eccolo qua, super gnocchetto. Super gnocchetto, sì. Ho scelto le scaglie di mandorle, senza tostarle però, perché non voglio che diano un'impronta di sapore troppo forte, ma solo l'effetto croccante, perché un piatto, se ha diverse consistenze, è sempre più amabile. Quindi qui abbiamo la cremosità, data dagli asparagi, lo speck e poi abbiamo questa nota croccante. Quindi non tanto di sapore di mandorle, ma quanto come consistenza, che andremo ad aggiungere solo a piatto ultimato, quindi non nel condimento. Benissimo, abbiamo visto con l'abbinamento col cerasuolo, ce lo giochiamo così. Sì, è perfetto, perché è un vino che ha carattere, ma non troppo come potrebbe essere, per esempio, un vino rosso, ma più delicato, perfetto per questo tipo di piatto. Benissimo, con l'acqua che nel frattempo è da segnali positivi, ci possiamo al frattempo avventurare, ricordando ancora la ricetta e gli ingredienti, con... ecco qui, tanto questi poi... Sì, sì, tanto tornano su, sono piccolini. Sono piccoli e in questo contesto, ovviamente, per motivi televisivi, non tantissimi, quindi arrivano più o meno tutti nella stessa... Aggiungiamo un filo d'olio, giusto per scongiurare... Si può fare questo? Sì, sì, per scongiurare... Ne abbiamo facoltà a mettere un filo... Un filo d'olio, sì, con la pasta fresca a volte si fa appunto per evitare che in cottura... Possano succedere... ...attaccarsi, sì. ...cose strane, ma non succederanno qui sulla vera tv... Non spediamo la sorte... Ecco qui... Eccoli... Molto bene, nel frattempo la salsa, invece poi dopo successivamente... Sì, nel momento in cui adesso andiamo a scolare gli gnocchetti, li tuffiamo nel condimento, poi aggiungeremo la crema, le punte di asparago e le mandorle a scaglie, scusate, non granella. Tanto io mi preparo tutto. O qui? Per quanto riguarda lo zafferano, la regola dice che se si usa a pistilli si può mettere anche nel piatto nel numero massimo di tre pistilli a porzione. E quindi lo faremo anche noi. Seguiamo alla lettera. Ecco, me lo preparo. Bene. Zafferano pronto. Sì. Con l'olio che abbiamo visto, si può mettere nell'acqua. Sì. Smuoviamo un po'. Non sono un esperto né di cucina né di pasta fresca. Però hai visto che è una pasta fresca semplicissima da fare, senza attrezzi particolari, a parte un rigagnocchi che comunque si trova in tutti i mercatini, in tutti i casalinghi. Quindi senza macchine per la pasta, senza nulla di astronomico. Non ci sono costi particolari, una ricetta così per 5 persone, quanto costa come un piatto del genere? Allora, qui perché abbiamo gli asparagi che non sono molto economici come ortaggi, però ecco, una ricetta di questa ci aggiriamo sui 10 euro. Che è un prezzo assolutamente sostenibile. Sì, assolutamente. Eccoli. Sì, allora, ecco gli gnocchetti che stanno tornando piano piano a galla. Possiamo intanto, mentre gli gnocchetti cuociono, aggiungere la crema di asparagi. Questo colore verde si può ottenere appunto con lo shock termico, cioè nel mettere gli asparagi appena tirati fuori dall'acqua. In altra acqua però molto molto fredda, in modo che mantiene questo colore molto acceso e non vira né al giallo né al verde scuro. Ma come se fossero appunto ancora quasi crudi il colore naturale degli asparagi. Bene. Io nel frattempo mi sono trasferito, mi sono abbandonato il profumo degli asparagi e dello zafferano per il profumo delle notizie e dei titoli che arrivano dal TG, che ricordiamo dalle 13.30 a cominciare dal TG Abruzzo con le anticipazioni. A Pescara un gruppo di attivisti protesta sotto la sede dell'assessorato della sanità per una vaccinazione in chiaro. A Teramo nel frattempo sono iniziate le somministrazioni dei medici di base agli allettati. E poi ancora la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 17 anni di reclusione all'assassino di Monia Di Domenico, la psicologa, 45 anni di Pescara, assassinata dal suo inquilino nel gennaio del 2017. Ancora la vicenda dei lavoratori della Betanfaith di Tortoreto ha trovato finalmente una conclusione positiva, un contratto di solidarietà per i prossimi 12 mesi con l'impegno da parte dell'azienda a integrare ad ogni lavoratore la perdita salariale. Poi ancora Pescara fermo in Serie B a causa del Covid, è campionato cadetto in Milico, mentre in Serie C domani il Teramo al Bonolis a caccia di un riscatto di dignità dopo la sconfitta di Cava dei Tirreni contro il Bisceglie per blindare i play-off. Poi ancora il TG Marche a partire dalle 14, curva stabile nelle Marche per il Covid con 341 nuovi positivi. Sulle zone gialle il direttore del Gores Mario Caroli non nasconde una certa preoccupazione sull'ipotesi di apertura delle scuole, dice va monitorato e osservato attentamente. Intanto nei pronto soccorso non ci sono più pazienti in attesa di un posto letto. Ancora da oggi al via le prenotazioni dei vaccini per gli over 65 ad Ascoli, grande affluenza al palazzetto di Monticelli e si parte anche con le prime dosi ai detenuti di Marino del Tronto. Quindi torniamo a parlare dello screening del comune di Pesaro nelle scuole, proteste per oltre 20 studenti falsi positivi non confermati dal molecolare. Le famiglie sono dovute andare in quarantena senza che ce ne fosse reale bisogno. E poi lo sport. L'Ascoli si gode il primo successo della storia a Ferrara che gli consente di continuare dopo la vittoria con la Spal. La corsa salvezza in attesa dei risultati delle rivali di questo pomeriggio nel campionato di Serie B. Ricordiamo che poi la Samb invece vive un clima in Serie C sempre più teso dopo che il Tribunale ha fatto saltare fallimento tecnico, striscione, ultrasco, minacce al commercialista Collina. La squadra comunque partirà e parte per la trasferta di Verona. Questi erano i nostri titoli dei TG. Ricordiamo partire dalle 13.30 con il TG Abruzzo. Nel frattempo immagino che sia andata avanti la nostra Ilaria con il suo lavoro, con il suo fantastico primo. Ilaria, eccoti qua. Eccomi, allora perfetto, come potete vedere gli gnocchi sono tutti a galla, già più di qualche minuto, quindi ci apprestiamo a scolarli. Adesso mi appoggio qui, poi li ripasseremo. E certo Sergio, se mi davi una mano ne potevamo fare di più, però... Avremo modo, avremo modo di collaborare, ci auguriamo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Intanto hanno un bellissimo aspetto. Hanno mantenuto il colore. Hanno mantenuto anche la promessa. Sì, non ci hanno deluso. Non hanno deluso nemmeno, ma soprattutto i nostri telespettatori che seguivano con ansia questa particolarissima ricetta di primo. Bella non solo da vedere, come potrete immaginare. Adesso andiamo a ripassarli in padella. A giudicare dal profumo che arriva anche nell'altro studio. Ecco, qualche minuto, abbassiamo un po' in modo che non si asciughino, ma si amalgano benissimo con tutti gli ingredienti. Veramente molto invitanti. Un profumo. Molto invitanti, oltre che colorati, dicevo, profumatissimi. Poi li assaggi però, Sergio, o no? Sì, questo certamente ci mancherebbe. Sicuramente sono, cioè, incuriosito. Eccoci. In modo che, siccome difficilmente scuociono, possiamo farli, appunto, insaporire anche qualche minuto in più, in modo che anche la semola rilascia ancora un po' di amido e che si va ad aggiungere già alla cremosità del piatto. Benissimo, un piatto che andiamo a impiattare a questo punto. Sì. Allora. Spegniamo. Andiamo a mettere gli gnocchi con la crema di asparagi e specche nel piatto. Poi, come vi avevo promesso, non finisce qui, ma andiamo, mettiamone un altro po' perché sono sicura che non solo Sergio assaggerà. Andiamo a pulire un po' il piatto. Abbiamo visto prima, Ilaria, non solo la ricetta del nostro bartender Daniele Giannascoli, ma anche poi l'abbinamento con il cerasuolo. E poi, eventualmente, un primo di questo genere si abbina anche con dei piatti, immagino, di carne, no? Sì, allora, il cerasuolo, che lo prendo, ecco qui, lo possiamo abbinare benissimo a delle carni bianche, come del pollo, il coniglio, anche il pesce, perché non è vero che il pesce è solo con il vino bianco, ma si presta benissimo anche con i pesci, per esempio, anche conservati come può essere il baccalà, che ha un sapore molto deciso, che si abbina benissimo. Si abbina benissimo il cerasuolo anche piatti a base di verdure, salumi, formaggi e quindi è buono con tutto, ecco. Buono e semplice, come tipologia di ricette, ricordiamo il tuo blog... Sì, le ricette svelate. Quindi, chi volesse poi cercare, oltre che, insomma, con le indicazioni che abbiamo dato oggi, volesse cercare di replicare anche questa tua ricetta di oggi, cosa potrebbe fare per trovare il tuo blog? Oggi non è ancora sul blog, perché è in esclusiva per Veratv. Grazie. Quindi, però ci sono tantissime ricette con gli asparagi, con i carciofi, perché una mia grande convinzione, cerco di essere coerente in questo, è di usare sempre prodotti di stagione, quindi la stagionalità è importantissima. E quindi nel mio blog, se trovate le ricette di aprile e di maggio, troverete carciofi, asparagi, piselli, fave e più avanti zucchine e melanzane. Perché in fondo, perché dobbiamo anticipare i tempi? D'inverno sono buone le berze, sono buoni i cavoli cappucci, le arance e d'estate e primavera i frutti di quel periodo e le verdure. Quindi abbiamo impiattato, adesso abbiamo lasciato, come vi avevo detto, delle puntine di asparago, che se si sono raffreddate, basta che le immergete per qualche minuto nell'acqua di cottura della pasta e torneranno ad essere calde. Bene. Perché altrimenti, poi, quando si va ad assaggiare il piatto, non è piacevole quella punta da asparago gelata. Quindi, tre puntine. Oh, dico un'eresia a questo punto, naturalmente. Sarebbe stato anche possibile fare una ricetta omologa con i carciofi di questo tipo? Sì, con i carciofi. Lo stesso ha fettine sottili, una parte ridotta in crema, con le zucchine, per esempio, con le fave. Sono ammesse varianti da questo punto di vista. Sì, manteniamo il colore verde, aggiungiamo i pistilli, come avevamo promesso. Per chi vuole anche del parmigiano. Ok, perfetto. Allora, questo è il piatto. Eccolo qui, un bellissimo piatto. Avevamo promesso un piatto verde che desse segnali anche la libertà. Intanto noi ringraziamo Ilaria Cappellacci, la nostra chef, che ci ha regalato questi gnocchetti particolarissimi che abbiamo avuto modo di seguire nel dettaglio. Intanto grazie, grazie Ilaria per essere stata con noi. Appuntamento ai nostri prossimi spazi. A voi, grazie. Grazie, bravissima per i nostri spazi.